Ben ritrovati a Velemotore, l'appuntamento settimanale per tutti gli appassionati di navigazione. Vi ricordiamo che Velemotore è anche tutti i mesi in edicola e poi ovviamente sulla nostra pagina ufficiale di Facebook e sul nostro sito internet velemotore.it. Entrilevel della gamma è un battello open curato nei dettagli con un look moderno e aggressivo, abbinato a un fuoribordo da 225 CV che lo spinge fino a 44,5 nodi. Ecco a voi Honda 4XC HT. 4XC, acronimo di 4 Excellence, H7, un battello veloce e moderno nel design. L'H7 è un center console e si differenzia dai fratelli maggiori H8 e H9 perché è l'unico senza cabina. A prua c'è un grande prendisole, un secondo si trova a poppa ed è servito dal divano lineare che grazie allo schienale regolabile in tre posizioni e alla prolunga ribalta può essere utilizzato almeno da tre persone. La console di guida è caratterizzata da linee aerodinamiche servita da un pratico puntapiedi e da una seduta leaning post che cela un piano di lavoro con lavello, tavolo a ribalta e tienti bene in acciaio. Grazie ad un sistema di guide che corrono a filo del piano di calpestio è possibile far scorrere il mobile bar in avanti per guadagnare spazio dove serve. L'ingresso in pozzetto poteva essere progettato meglio visto che è necessario scavalcare il divanetto per accedervi. Il battello è proposto in abbinamento a un fuoribordo Honda BF225 VTEC. Con questa potenza, l'unica prevista, si raggiunge la planata a 2800 giri e una velocità superiore a 17 nodi. Durante il passaggio dal dislocamento alla planata, l'H7 fa registrare una certa tendenza ad alzare la prua, compromettendo la visuale a chi è alla guida. Fastidio che però si può correggere lavorando sul trim. L'accelerazione è da super sportiva, bastano infatti meno di 4 secondi per raggiungere la planata. Si raggiungono i 20 nodi in 6 secondi, i 30 in poco più di 10 secondi. A manette a fondo corsa è necessario regolare nuovamente il trim per far prendere ancora qualche giro al motore e si riescono a raggiungere i 44,5 nodi a 6100 RPM. Il battello entra sull'onda in modo sicuro anche in velocità, ritornando in assetto dopo un atterraggio morbido a conferma di una carena riuscita e robusta. Soddisfacenti i valori della rumorosità che si mantengono sotto la soglia dei 90 dB a tutti i regimi. Prezzo di listino con IVA 71.998 euro, prezzo alla BOA 77.179 euro, IVA inclusa, franco cantiere, calcolato aggiungendo al prezzo di listino solo gli optional che riteniamo più utili. Ci piace il design accattivante, gli impianti e la gestione dei servizi a bordo. Non ci piace la scomoda risalita dall'acqua in pozzetto. Spostiamoci in Corsica, il periplo dell'isola con passaggi anche impegnativi non delude mai. Tra panorami mozzafiato, colori, profumi e sapori. E per chi vuole, la traversata della Toscana. Il giro della Corsica è forse una delle prime avventure che i diportisti sognano di fare dopo i primi bordi in barca. Sulla carta può sembrare semplice, ma richiede invece attenzione e una buona preparazione. L'isola Natia di Napoleone offre infiniti luoghi che meritano una visita e il tempo diventa tiranno se non si dispone di almeno una settimana, meteo permettendo. Nell'itinerario che proponiamo si parte dalla costa italiana perché crediamo che il tempo impiegato per la traversata sia ripagato dalla comodità di poter raggiungere il porto di partenza con la propria auto. Salpiamo da Salivoli, il Marina di Piombino, ma possiamo partire da qualsiasi punto del litorale tirrenico, dalla Liguria al Lazio, adeguando naturalmente il percorso. Chi dispone di una settimana dovrà programmare navigazioni quotidiane più lunghe e talvolta impegnative, mentre con 15 giorni si riesce a vedere molto, anche se al termine si avrà il desiderio di tornare per vedere quello che ci manca. Bastia Portovecchio in senso anti-orario. Il percorso è diviso in tappe e non in giorni, poiché chi dispone di una settimana dovrà necessariamente saltare qualche sosta o fare più tappe nella stessa giornata. Le miglia sono 414 da suddividere in 15 giorni. L'itinerario è stato programmato in senso anti-orario vista la prevalenza dei venti di maestrale. Prima di iniziare il viaggio è opportuno essere informati dello sviluppo delle condizioni meteo. Sarebbe sconveniente, oltre che costoso, non riuscire a rientrare in tempo per il termine di un noleggio perché bloccati dal tempo avverso. Le previsioni possono essere ascoltate sulla costa est e sulle bocche sui canali radio italiani, canale 68 in continuo. È possibile anche ascoltare un ottimo bollettino meteo in francese sul canale 79, emesso tre volte a orari diversi a seconda della zona 7.33 8.45, 12.33 13.45, 19.33 20.45. Se si dispone di un collegamento internet molto precise, le previsioni sul sito italiano www.lamma.rete.toscana.it. Lungo l'itinerario incontriamo la riserva delle isole Finocchiarole a nord, la riserva naturale di Scandola a ovest e quella delle Bocche di Bonifacio. In Italia tutto l'arcipelago della Maddalena fa parte di un parco naturale. Tutte queste aree hanno diverse regolamentazioni che vanno dal divieto assoluto di ingresso e ormeggio fino a restrizioni alla pesca e alla navigazione. Parliamo di riscaldamento. Ecco a voi una guida all'installazione di un impianto a bordo di una barca a vela di 13 metri, con i consigli per un lavoro efficace. Oggi parliamo di riscaldamento. Tra gli accessori nei sogni dei diportisti, il riscaldamento occupa la parte alta della classifica. Lo si comprende dall'interesse che spesso si riscontra nei vari forum dei siti internet, ma non solo. L'impianto di riscaldamento in barca si va diffondendo sempre più per i grandi vantaggi che offre. Comfort, sicurezza, confrontandolo con i sistemi di riscaldamento cittadini, benessere per l'imbarcazione che con questo ausilio riesce meglio a contrastare i problemi di umidità. Nel nostro caso è stato installato un impianto Bebasto, una delle più importanti aziende del settore, su una barca a vela di 13 metri, un gran soleil 43 del cantiere del Pardo. La prima cosa da fare è capire dove far passare la tubazione dell'aria. Si scende sotto coperta e si cerca di capire da che lato è più agevole passare. Bisogna immaginare una linea principale di un diametro importante, circa 10 cm, che andrà da poppa a prua. Una volta identificato si metterà il bruciatore nel gavone di poppa corrispondente. La tubazione principale parte con un diametro 90 sino al quadrato e da questa posizione con diametri inferiori raggiunge il o i bagni e la gabbina di prua. Per le gabine di poppa è meglio prevedere una tubazione che dalla caldaia tramite il gavone raggiunge le gabine da poppa in modo che il riscaldamento sia uniforme nella gabina evitando testa calda e piedi freddi. Può essere utile sfruttare passaggi poco a vista come armadi o gavoni. Una volta creata la linea principale si possono piazzare le bocchette di erogazione nelle varie gabine utilizzando dalla linea principale delle derivazioni a Y. Conclusa questa fase si può incominciare a installare il bruciatore. La prima cosa da fare è identificare il posto dove mettere il bruciatore e come fissarlo. Per questa operazione viene fornita una staffa in metallo ma non è possibile fissarla direttamente alla barca. Per questo si incolla con una colla bicomponente una tavola di compensato marino all'imbarcazione e dopo tre ore si può procedere al fissaggio. Una volta collegato il tubo di aria principale occorre allacciare l'alimentazione del gasolio e l'alimentazione elettrica. Per l'alimentazione del gasolio occorre raggiungere il serbatoio principale e collegarsi con un apposito raccordo all'uscita dove sia prevista. Il tubo del diametro del 6 corre per 50 cm sino alla pompa che è piccola e facile da stivare. Dalla pompa riparte un tubo dello stesso diametro sino al raccordo di alimentazione principale del serbatoio. Una precauzione. Siccome la pompa è a impulsi ed emette in funzione un ticchettio occorre evitare di fissarla in maniera diretta la barca perché trasmetterebbe rumore. Meglio avvolgerla in materiale fonoassorbente. Per il collegamento elettrico viene fornito già un cavo con gli attacchi predisposti e basta portarlo nello stesso vano della tubazione principale sino al quadro elettrico. L'alimentazione è meglio prelevarla direttamente dalle batterie per evitare che allo spegnimento dell'utenza la caldaia non abbia fatto le sue operazioni finali di pulizia. Lo scarico. Posizionato in alto in modo che non sia facile sommergerlo e all'interno prevedere un sifone per evitare eventuali imbarca d'acqua in boline troppo strette. Al bruciatore vengono collegate due prese d'aria. La prima serve per la combustione, è piccola di diametro e l'aria prelevata viene messa insieme ai gas di scarico. La seconda, quella di ventilazione, è di diametro 90 e si può lasciare libera di pescare dal gavone oppure portarla con una bocchetta sino al pozzetto. Il tubo di scarico con il suo silenziatore viene rivestito di materiale coibentante. È previsto anche di un silenziatore per attutire il rumore. Siamo giunti al termine di questa puntata, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana e ovviamente su Facebook e sul nostro sito internet velemotore.it. Buon vento! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS